Si chiama E-CALL, è scritto E-C-A-L-L ed è un nuovo dispositivo che probabilmente qualcuno di voi già conosce o perché sentito dire nel web o in tv oppure perché ha dei familiari molto molto anziani che sono costretti a utilizzarlo per quanto riguarda la loro salute e che cos'è? Non è altro che un dispositivo per la chiamata di emergenza che avviene da automobile e che pensate andrà a salvare la bellezza di 2500 vite all'anno solo nel continente chiamato Europa continente in cui noi ci troviamo a vivere visto e considerato che siamo l'Italia insomma un dispositivo non utile ma posso nel dirlo utilissimo utile che può fare letteralmente la differenza che può dare qualcosa di giusto, di positivo, di eccellente a quelle persone che hanno la voglia, che hanno le necessità e o che hanno il bisogno di essere salvate è un dispositivo che entra in funzione in maniera abbastanza tempestiva e riesce a far salvare delle vite umane beh, un salutone, iscrivetevi, commentate al prossimo video